La prima partita del girone di ritorno di Juventus Next Gen e Pescara, un Juventus che vuole uscire dalla zona play-out in Pescara invece che viene da 5 risultati utili consecutivi e vuole agganciare la Carrarese al terzo posto in classifica. Parte meglio la squadra di Zenech Zeman che al settimo minuto ha una grande occasione con Cuppone, eccola qui con Merola che serve Cuppone che non ci pensa due volte, calcia da fuori la parata di Daffara che poi bravissimo a rialzarsi a dire di no anche a Merola, situazione simile che si ripete al ventesimo minuto, questa volta la conclusione è di Aloy, para ancora Daffara ma sulla ribattuta arriva Cangiano che porta in vantaggio gli abruzzesi con il tap-in che prende fuori tempo sia il difensore della Juventus sia il portiere dei bianconeri, fa il quinto gol della sua stagione e fa 1-0 per il Pescara. Rivediamo la conclusione di Capitano Aloy, la parata del classe 2004 e poi il piatto del numero 32, la Juventus reagisce con il cross di Rui che sul secondo palo trova Comenenzia che però non inquadra lo specchio della porta. E poi al quarantesimo minuto da azione da corner arriva il pareggio, Rui crossa, Cuppone la lontana sui piedi di Damiani, sta filata che si infila all'ancolino dal limite dell'area di rigore, il primo gol di Damiani con la Juventus Next Gen, torna al gol in Serie C dopo due anni, l'ultimo con la maglia del Palermo contro il Monterosi. Proprio nel gennaio del 2022, Juventus che chiude bene il primo tempo e apre ancora meglio il secondo, la combinazione tra Asa e Guerra porta l'Italo Albanese sulla destra per Comenenzia che freddissimo trova il secondo gol del suo campionato. batte Plizzari e fa 2-1 per la Juventus Next Gen, questo l'assist di Luis Asa, grande partita per il numero 7, questo il gol di Livano Comenenzia, un vantaggio che dura però solo due minuti perché poi Merole e Cuppone scambiano più volte il pallone che arriva di nuovo al numero 29, che appoggia in porta il gol del pareggio e il terzo gol del centravanti contro la Juventus Next Gen di quest'anno, il settimo in totale nella sua stagione. Bello l'1-2 con Merole che rimette dentro il più facile dei tap-in per Cuppone dopo il controllo, ribadisce in porta, anche questo gol però e il pareggio durano due minuti perché poi Comenenzia trova al centro Guerra che fa 3-2 per la Juventus Next Gen, 6 minuti dove è successo di tutto, prima il vantaggio di Comenenzia, poi il pareggio di Cuppone, poi l'assist di Comenenzia per Simone Guerra. Sesto gol nel suo campionato, esulta con il calciatore olandese, eccola qui l'esultanza del numero 17 ex Feral Pisalò che poi si ripete al 79esimo minuto, il calcio d'angolo di Rui sulla testa, sul primo pallo di Simone, guerra doppietta per il numero 17, anche per lui terzo gol contro il Pescara che ha segnato anche nella gara d'andata. Il settimo gol in campionato, quello che dovrebbe chiudere la partita ma in realtà non la chiude perché il Pescara ha la forza di nuovo di reagire, il corner di Tuniov finisce sul braccio di Angele, il direttore di gara indica il dischetto, eccola qui la traiettoria finita sul braccio del centravanti dei Bianconeri, dal dischetto si presenta proprio il calciatore Estone, Georgi Tuniov che la spara centrale sotto la traversa, batte da Fara e il terzo rigore trasformato nella sua stagione, il settimo gol nella sua stagione, entrato dalla panchina, spiazza il portiere della Juventus, Pescara che dunque ci crede ma che nel finale rimane con un uomo in meno, la prima espulsione nella stagione del Pescara e se la becca a Mesic per questo fallo su Angele, doppio giallo per il centrale di difesa slovacco, finisce così 4-3 per la Juventus Next Gen che inizia bene l'anno, inizia male invece il 2024 del Pescara che fallisce l'aggancio alla Carrarese. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.